Cominciamo, benvenuti, questo è il nostro secondo incontro dedicato al giorno della memoria 2020. Due giorni fa appunto abbiamo reso un omaggio alla figura di Ludwig Pollack con Elena Caggiano di Azevedo. Oggi è dedicato alla figura di Alessandro della Seta che ha peraltro legami molto particolari, e ha subito per fortuna una sorte meno tragica rispetto a quella di Pollack, che fu però della Seta discriminato in quanto ebreo, pur avendo sposato la causa politica per la sua adesione al fascismo, ma in quanto ebreo fu appunto discriminato e allontanato dalla carriera scientifica e dell'amministrazione. Il suo legame con Villa Giulia è particolare perché dal 1909 al 1913 è stato qui ispettore archeologo nel museo, dedicandosi in modo particolare allo studio dei materiali e con particolare riguardo, e qui c'è un omaggio che la collega Antonietta Simonelli, curatrice delle collezioni esposte a Villa Pognatoschi, che comprendono le collezioni dell'Umbria e dell'Azium Vetus, in particolare dell'Azium Vetus di Preneste, con la collezione Barberini, a cui della Seta dedicò una pubblicazione importante, abbiamo appunto posto una delle ciste, e sarà questo della collezione Barberini, e da qui domani partirà una visita tematica, che sarà un ulteriore omaggio che appunto Antonietta Simonelli farà per i visitatori, che vorranno venire al museo, approfittando di una delle poche aperture di Villa Pognatoschi, che riusciamo ad aprire soltanto il venerdì e il sabato, o mattina o pomeriggio. Tra l'altro appunto la collocazione fisica è anche simbolica, perché nel momento in cui della Seta lavorava qui, e anche dopo, quando era già nella scuola, anzi, già nel 1913, era passato all'università, all'università di Genova, e poi nel 1926 avrebbe assunto la cattedra alla Sapienza di Roma, proprio come Etruscologia e Antichità Italiche. Però, quando era appunto ancora non nella scuola di Atene, la cui direzione assunse nel 1919, pubblicò la guida del Museo di Villa Giulia, che rifletteva l'allestimento del tempo, che fondamentalmente era incentrato sui materiali provenienti dall'agrofalisco, e le collezioni appunto della collezione Barberini, che era stata acquisita nel 1908. La collezione Barberini era proprio esposta in questa sala, e nella saletta tigua, che adesso è il punto di allattamento per i bambini, era proprio dedicato alla cista Ficoroni, cista Ficoroni che appartiene alla collezione kircheriana, e che quindi era entrata nel Museo di Villa Giulia nel 1913. Però è una cista, ovviamente, prenestina, e quindi naturalmente faceva parte di questo punto del percorso. E come dicevo, appunto, l'omaggio è reso nel giorno della memoria, perché la discriminazione delle leggi razziali del 1938 portò naturalmente all'allontanamento di della seta dalla direzione, e con una fine, diciamo, anche un po' in solitudine. Agli ultimi anni, ad alcuni documenti, o del tutto inediti, o comunque poco noti, la collega Laura Derme, che adesso appunto potrà, prima di passare la parola, ai relatori della giornata che si divideranno un po' il compito del racconto, e che sono Elena Calandra, dirigente del servizio secondo della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paisaggio, e direttrice ad Interim dell'Istituto Centrale per l'Archeologia, sempre nella direzione, all'interno della Direzione Generale, almeno fino a dopodomani, perché poi l'Istituto Centrale tornerà ad essere anch'esso autonomo, ed Emanuele Papi, che oltre a essere professore ordinario di archeologia classica all'Università di Siena, è, e soprattutto nella veste in cui è presente questa sera, l'attuale direttore della Scuola archeologica di Atene. Facevo l'accenno all'ICA, all'Istituto Centrale di Archeologia, che è anche un po' gemellato con noi come Museo di Villa Giulia, perché Elena Calandra, anche adesso verrà reinsediato, immagino sia il Comitato Scientifico che il Consiglio di Amministrazione, è anche membro del Consiglio di Amministrazione del Museo Autonomo di Villa Giulia, che ancora fino a dopodomani non lo è, perché noi siamo stati, diciamo, retrocessi col decreto di Bonisoli del 22 agosto, ma ormai è di fatto legge il nuovo decreto ministeriale del 2 dicembre di Franceschini, che ripristina l'autonomia per i tre istituti che ne erano stati privati, oltre a noi l'Accademia di Firenze e il Parco dell'Appia, dal 5 febbraio diventa esecutivo. E ieri, in conferenza stampa, il ministro ha anche annunciato quello che era già un intendimento che aveva lanciato da subito, e cioè la volontà di reinsediare i direttori che erano stati destituiti per effetto della riforma. Quindi dal 5 febbraio in poi, o poco dopo, adesso ce lo renderanno noto, tornerà qui Valentino Nizzo, che era il direttore, il cui incarico sarebbe naturalmente scaduto nel 2021, che poi era stato interrotto da questo episodio di riorganizzazione. Quindi a questo punto passiamo subito, entriamo nel vivo della serata, e quindi Laura, innanzitutto, Laura Derme, la collega del museo, che darà notizia di documenti particolarmente interessanti e anche toccanti. Buonasera, nel corso di ricerche sulla storia del museo, anzi veramente seguivo Della Seta nella sua pubblicazione su Dedalo, dell'arte etrusca che prendeva le mosse dalle antefisse a testa di Gorgone, veglienti, da lì Dedalo, rivista fondata da Ugoietti, insomma mi sono resa conto che alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, dove tra l'altro l'archivio storico è online, esisteva un carteggio fra Ugoietti e Della Seta. E allora non ho potuto non andare a consultarlo. Ed è appunto un... non sono tanti documenti, ma sono relativi al periodo dal 19 al 40-41, quando lui ormai è a Sanremo, non c'è il momento in cui è a casteggio, non mi pare. E c'è anche una piccola documentazione relativa alle lettere della moglie Maria Teresa, scritte alla moglie di Ugoietti, Fernanda Oietti. Ed è proprio da questa che volevo partire, che è una lettera del 39, però mi devo spostare di qua perché non ci vedo, in cui appunto Maria Teresa Della Seta scrive Carissima amica, grazie per tanta bontà della quale Dio te ne renderà merito, è grande conforto il sentirsi ancora amati dalle persone care nei momenti più tristi della vita. Col primo di febbraio è stato nominato il nuovo direttore, il professor Libertini di Catania, perciò noi ci prepariamo a partire con molto dolore. Sto versando anche molte lacrime per dover lasciare questa povera piccolina, figlia adorata di Piccinino, che era il coniglietto di cui poi ci parlerà, ed è tanto viziata. Ma come fare? Dove portarla? Quando anche noi non abbiamo una casa? E questa appunto è una delle lettere. Poi abbiamo appunto quelle di di Alessandro Della Seta, in cui, scritte a Ugo Ietti, questa del 40, Carissimo Ugo, sarei proprio desolato se tu dovessi aver preso per segno di scazzo affetto il non essermi fatto vivo con voi durante la mia ultima dimora a Firenze. A due svolte gravi della mia vita ti ho sentito così sinceramente vicino a me con tutto il tuo animo che non mi sarà mai possibile esserti ingrato. La ragione del mio incognito è stata un'altra, incognito tra virgolette, è stata un'altra, e te la dirò, anche se a prima vista possa apparirti estranea ai nostri rapporti personali. Dell'ultimo colpo del destino non è la perdita della cattedra e della scuola. Non c'è la defenestrazione da accademi e istituti. Non è la soppressione dei miei libri quel che più mi ha ferito, ma l'essere stato retrocesso a cittadino minorato. Almeno nella civiltà romana il liberto era su un gradino di ascensione, non su una china di regresso. Ora questa ferita l'ho sentita più dolorante che mai quando al principio di settembre scoppiata la guerra andai a chiedere al distretto se potessi presentare domanda di volontario e nebbi la risposta negativa alla più assoluta. Dunque l'ascaro, il somalo, il libico potrà combattere per l'Italia. Io non più. Poi c'è quest'altra lettera del 40. Carissimo Ugo, il tuo interessamento mi ha portato molta fortuna. Alle 18 sono stato chiamato al commissariato di pubblica sicurezza dove mi è stato comunicato che con decreto del 7 dicembre mi è stata concessa la discriminazione. cioè i privilegi che erano concessi agli ebrei che si erano fatti valere nel caso di Della Seta perché era stato volontario nella guerra del 15-18 quindi aveva usufruiva di questo privilegio della discriminazione. Ne sono contento perché spero che mi permetteranno di pubblicare i miei libri. Poi ce n'è un'altra sempre nel 40 da Sanremo ti mando il primo affettuoso saluto dalla mia nuova dimora sono in mezzo a una quiete assoluta non conosco nessuno non ho la radio sono avvolto nel silenzio dovrò per forza rimettermi ai miei lavori se non vorrò sentirmi già dissolvere nel gran nulla. direi che è tutto insomma sono alcune alcune solo del carteggio insomma io controllo solo l'ora penso che dobbiamo fare ESC lo vedi il tuo? in modo che si veda dove c'è la coppa eccolo qua ecco ecco perfetto allora penso che si senta perché siamo siamo in pochi quindi no no allora prendo mi metto davanti proprio degli appunti così ecco così si sente allora sono contenta di questa di questa opportunità costruita con con la dottoressa Guido Baldi e con con il professor Papi perché della seta è una figura che che merita molto molto più di quello che che ha avuto e che gli è stato riconosciuto e prima le parole della della dottoressa Derme ci hanno già portati al proprio a percepire la qualità umana di una persona privata di tutto di ogni diritto e e non arrabbiata cioè che va a offrirsi volontaria per andare in guerra e infatti io proprio ho degli appunti così che non guarderò neppure ma una delle proprio delle sue affermazioni più toccanti che adesso ha anche questo riscontro strettamente privato che è testimoniato dalla lettera della seta la diede a un collega dei lincei che molti anni dopo avrebbe reso questa testimonianza dicendo che quello che gli dispiaceva di più dell'allontanamento e di tutto quello che ne era conseguito era di non poter servire la patria in armi questa testimonianza è stata affidata agli atti di un convegno importante dell'Accademia dei Lincei sulle conseguenze culturali delle leggi razziali dove sono pubblicate anche delle statistiche impressionanti sui numeri in generale ma in particolare proprio sui numeri della cultura docenti universitari funzionari quindi con proprio il convegno mostra veramente a livello di numeri e di impatto la portata che le leggi razziali ebbero oltre poi che naturalmente le mille conseguenze che purtroppo conosciamo allora di della seta ecco questa questa immagine molto bella della nella locandina costruita da Maria Paola poi è passata attraverso i grafici però l'idea è di Maria Paola allora vediamo l'immagine di un signore di cui restano poche immagini effettivamente poche fotografie non so Emanuele se tu ne trovate un po' di più ecco meno male perché a livello pubblico di fotografie pubblicate ce ne proprio poche girano sempre quelle questa no questa è tra le più rare però in un'epoca come la nostra dove conta l'immagine io io ho fatto guardate il selfie eccetera ecco di della seta pochissime immagini e spesso malinconiche cioè aveva sempre un'aria un po' assorta non è mai almeno in quelle che nelle poche che conosco ha sempre un'aria un po' così triste o concentrata assorta come anche in questa e allora nella divisione non ci siamo neanche parlati però con Emanuele c'è un accordo tale come con Maria Paola che non abbiamo neanche avuto bisogno poi di prendere molti accordi e se poi Maria Paola ci vorrai parlare ancora proprio di della seta a Villa Giulia insomma avremo modo di approfondire spero ecco non ci siamo messi d'accordo ma so di che cosa parlerà Emanuele quindi mi permetto di coprire diciamo gli altri aspetti Emanuele ci parlerà il professor Papi ci parlerà della seta nel suo operato insomma in Grecia io vorrei focalizzare soprattutto i suoi anni centrali più che quelli della formazione ma gli anni proprio che hanno preceduto l'andata in Grecia con qualche affondo ma ecco beh un'immagine un po' sfocata del maestro di della seta Lövi al quale della seta deve il suo registro storico-artistico diciamo uno dei motivi forse per i quali della seta è poi stato un po' dimenticato direi dalla cultura archeologica successiva la seconda guerra mondiale è il fatto che è stato troppo identificato come storico dell'arte il nudo nell'arte e tutta una serie di sue opere comunque che restano molto importanti e ricche di intuizioni e non si è voluto o forse non è stato messo giustamente in valore il suo ruolo invece il suo registro se si può parlare di due registri di archeologo da campo di scavatore appassionato di scavi e di materiali e non per niente appunto pubblica il catalogo di Villa Giulia che all'epoca è profondamente innovativo non c'erano poi così tanti cataloghi era esemplato sul catalogo di Villa Giulia sullo Helbig non per niente perché la matrice di proprio di formativa di della seta è di natura tedesca austriaca insomma Leuvi comunque diciamo aveva quella formazione positivistica che poi trascolorerà in un in un crocianesimo moderato in diciamo soprattutto nel nudo nell'arte ecco dicevo Leuvi beh proprio un accenno alla alla gioventù diciamo di della seta e in particolare adesso qui è un po' sfocata ma ecco questa si vede meglio e ognuno poi ha le sue carte questa a questa io sono particolarmente affezionata credo di averne parlato con con Emanuele in passato questa è una cartolina che ho io di della seta che mi è stata regalata da un'amica da Benedetta Dembri che me l'ha portata dicendo guarda una cartolina con il teatro di Dioniso ad Atene io la guardo e dico ma questa è la scrittura di della seta giro e insomma comunque ecco si adesso è un po' sfocata ma si legge in basso a destra la sua firma allora questa cartolina è del 1904 e risale al ecco la data mi spiace non so perché è così così sgranata ecco però ecco 1904 che è il suo terzo anno in Grecia quindi al termine dopo la laurea e curiosamente non si conosce l'argomento sul quale della seta si laurea cioè anche qui oggi tutti mettono in accademia la tesi ecco lasciamo perdere allora su della seta non si sa ecco si conosce il nome del relatore si sa che ha seguito insomma intensamente che aveva un rapporto anche con Beloc ma non si sa su che cosa abbia fatto la tesi ecco però dopo la laurea trascorre tre anni in Grecia e questa cartolina questa signora ne è testimonianza ecco qui giusto dei cenni alle opere che lo hanno identificato soprattutto come lo storico dell'arte e per questo lo hanno un po' affossato poi culturalmente però dietro a ciascuna di queste c'è c'è un pensiero e c'è una struttura di pensiero con intuizioni ecco proprio per esempio in questo saggio sulla niobide degli orti salustiani che veramente sono attualissime anche se poi l'attualità non è il parametro di giudizio però ha delle intuizioni molto moderne e una così anche qui una notazione questo estratto è dedicato al professor Reinhardt e omaggio dell'autore qui questa scritturina puntuta che aveva della seta e mi viene familiare in questo colloquio insomma è un incontro e mi fa piacere che sia così non aulico ricordare ecco Reinhardt che anche egli grandissimo insomma intellettuale studioso il cui nipote sarebbe diciamo Reinhardt era il nonno il cui nipote sarebbe morto nella prima guerra mondiale e da lui poi deriva dai suoi appunti il famoso il re coimie allora questo mi permette una considerazione anche partendo proprio dal dall'inizio da quello che ci leggeva Laura prima sul discorso della patria allora della seta era un patriota nasce patriota e cioè nasce e si consolida patriota tant'è vero che interrompe il la sua carriera archeologica per arruolarsi nella prima guerra mondiale infatti nel 13 insegna a Genova dopo aver avuto la libera docenza nel 1909 nel 14 è commissario prefettizio ad Arezzo ma lascia quella carriera per arruolarsi sta per tre anni sul fronte trentino allora della seta fa parte di una generazione e appunto per questo ho inserito anche questo riferimento a Reinhard appartiene a una generazione in cui essere intellettuali essere studiosi grandi studiosi non significava disimpegno anzi significava anche proprio esporsi e pagare con la vita perché appunto il nipote di Reinhard pagò con la vita proprio subito all'inizio della prima guerra mondiale ma non solo lui altri come Leroux Gabriele Leroux che più o meno avevano tutti la stessa età Gabriele Leroux che muore ai Dardanelli combattendo ai Dardanelli avrebbe potuto benissimo non andarci non era stato richiamato insomma va e muore allora è una generazione che è improntata a questi valori patriottici altissimi e quindi è ancora più amaro il tributo che della seta si troverà a pagare ecco questa è un'immagine tratta dal saggio ecco qui questo l'ho trovato quando ero in Umbria la lista proprio il museo comunale di Todi inventario del materiale archeologico proprio della seta proprio nel cartiglio questa non è la sua scrittura però evidentemente lo avrà dettato quindi uomo di amministrazione e poi divenuto docente universitario e poi ecco anche questo l'avevo trovato in Umbria il catalogo di Todi di cui poi molti materiali sono qui proseguito da Beccatti altro uomo d'amministrazione poi passato all'università e qui ecco questo mi aveva fatto sorridere perché è un sollecito di un sindaco cioè la storia si ripete sempre ecco e anche in questo caso ancora una volta ecco l'archeologia dei greci dai greci a Winkelmann e a noi che era la prolusione della seta all'università di Genova dove in realtà rimase pochissimo ecco questo è un estratto dedicato a patroni quindi alla statale di Milano come diciamo come docente rimane poco a Genova per i motivi che dicevo prima poi passa ad Atene e quindi non aggiungo nulla ma aveva avuto la abilitazione diciamo la libera docenza in archeologia ma si fa poi spostare nel 1926 a etruscologia ed archeologia italica questo è un po' un ritorno a una parte delle origini con Villa Giulia ma denota anche proprio la ricchezza degli interessi di Della Seta perché avrebbe potuto benissimo continuare a voler fare archeologia classica ecco qui non mi ci soffermo perché ecco qui ho inserito queste immagini notissime per un motivo non sono tratte da da opere di Della Seta anzi sono derivate da Grandor da opere di Grandor che era un altro grandissimo studioso in questo caso belga contemporaneo di Della Seta ma Della Seta grecista Della Seta etruscologo e studioso di antichità italiche Della Seta in qualche modo precursore degli studi sulla Grecia di età romana come si desume da una sua da un suo contributo del 1920 quindi molto precoce sull'annuario in cui proprio lancia questa possibilità dice bisogna studiare anche la Grecia di età romana che una delle sue molte intuizioni poi rimaste rimaste appese non non completate non non portate proprio a compimento un po' perché in quegli anni effettivamente Grandor pubblicò sistematicamente negli anni 30 e quindi forse c'era stato anche quello ma non conosciamo poi i percorsi diciamo che la romanità imperante nonostante il suo patriottismo prima e l'adesione al fascismo poi però la romanità forte non era nelle corde di Della Seta questo non lo era per niente quindi si può anche capire come nel suo percorso di studioso una parabola terminale come era all'epoca percepita l'arte romana rispetto all'arte greca invece avesse un suo come dire un suo significato e Della Seta volesse annettere una sua importanza specifica ecco ancora qui è la biblioteca di Adriano in una condizione ecco e qui veniamo alle pagine amare salto alla conclusione anche perché certamente ci intreceremo con Emanuele ma è doveroso questo è un documento che io avevo trovato anni fa perché insomma non è nuova questa passione per Della Seta per me avevo trovato in anni insomma felici quando ero borsista al germanico devo dire che con grande apertura il professor Blanc mi aveva aperto l'archivio e mi aveva fatto vedere questi documenti scottanti perché non ci facevano proprio una figura bellissima e me li lasciò pubblicare cioè sono pubblicate queste carte ecco in cui la Deutsche Botschaft chiedeva appunto l'ambasciata tedesca chiedeva notizie in merito a una serie di soci che dell'istituto naturalmente Della Seta era socio corrispondente poi sarebbe divenuto socio effettivo ma chiedeva se erano di razza ebraica e la risposta poi insomma per Della Seta e per altri purtroppo fu positiva e comportò l'allontanamento anche dalla biblioteca dell'istituto un allontanamento prima diciamo che all'inizio avevano insomma avevano provato a far finta di non aver capito ecco però poi alla fine l'allontanamento ci dovette essere in in questo ecco in questo elenco si vedono nomi illustri per alcuni non fu mai accertata l'appartenenza alla razza ebraica per Macchioro probabilmente no e neppure per la per l'amor purgo mentre certamente per Momigliano e anche per Alda Levi che pure fu destituita di ogni insomma era funzionaria e poi soprintendente in Lombardia ma fu privata di ogni di ogni carica e di ogni possibilità ecco questo diciamo la questo questo documento così stridente fa riflettere su ancora brevemente poi se mai se ci saranno domande dopo insomma approfondiremo fa riflettere proprio sul senso dell'allontanamento di della seta e sul significato della memoria proprio nella giornata della memoria perché privare qualunque persona al mondo naturalmente dei suoi diritti ma in particolare una persona di cultura privarla dell'esercizio di quello che sta facendo di quello per cui è portata vuol dire farlo morire prima e infatti le pubblicazioni di della seta cessano nel 37 quindi dopo non scrive più niente non scrive neppure o non non se ne ha notizia ma l'impressione è che non abbia più scritto neppure sotto falso nome come fecero degli intellettuali o ebrei o antifascisti che però riuscirono comunque a scrivere non solo archeologi non necessariamente archeologi che però scrissero sotto falso nome della seta si viene come dire condannato all'ombra perché prima si ritira a Sanremo e ho anche visto delle fotografie sue della moglie nella villa di Sanremo nell'archivio privato della famiglia della seta e poi si ritira a Mairano che è una frazione di casteggio appunto insomma come è stato detto prima dove muore nel 1944 di della seta era rimasta però memoria nonostante tutto e non fu vittima di delazione come per esempio fu segre che poi finì i suoi giorni con la famiglia ad Auschwitz e il nome del delatore purtroppo è noto della seta riuscì a rimanere nascosto nelle proprietà della moglie a Mairano ma si sapeva che c'era era viveva sotto falso nome con un nome di ingegner qualcosa però la rete intorno a lui non lo tradì mai queste cose io le so perché io sono di lì cioè io sono di Voghera e era rimasta memoria a Voghera di questo professore che ogni tanto si azzardava a scendere in città e sotto falso nome dicendo di essere l'ingegner tal dei tali e addirittura fu per strada lo incontrò Bernabò Brea non so per quale motivo stava Voghera Bernabò Brea sono proprio le alchimie della guerra forse e lo chiamò professore e lui gli disse no no non dire niente perché io qui nessuno sa chi sono in realtà si sapeva che c'era però diciamo che Voghera dai dintorni è stata una delle città più una zona tra le più forti dal punto di vista della resistenza quindi probabilmente anche questo ha aiutato perché nei dintorni per esempio si nascondeva anche Provenzal che era un altro che era pure uno studioso insomma quindi diciamo che c'è stata una rete che ha salvato della seta che muore poi per un'infezione banale insomma non si sa neanche bene il 20 settembre del 44 senza sapere di essere stato riabilitato dall'università di Roma io avevo trovato le carte all'archivio di stato con la lettera proprio di dell'università di Roma che gli diceva caro professore lei è stato riabilitato ma arriva a casa della sorella di della seta quando lui era già morto in realtà ecco quello che è molto amaro da dire è che della seta era già morto prima era morto con con l'allontanamento quindi ecco in una giornata della memoria questo soprattutto va tenuto presente adesso io non so se ho parlato troppo spero di no so che non ci sovrapponiamo buonasera a tutti grazie di essere qui e grazie alle colleghe Maria Paola Guido Baldi Elena Calandra per aver coinvolto la scuola soprattutto in questa giornata di commemorazione di Alessandro della seta ecco allora per andare avanti con la princesa circa poco più di un anno fa il 18 settembre del 2018 70 anni dopo l'annuncio delle leggi razziali la scuola archeologica italiana di Atene ha onorato il direttore Alessandro della seta e gli allievi della scuola colpiti dai provvedimenti che in questo giorno della memoria vorrei ricordare anche con voi il filologo e orientalista Giorgio Levi della vida allievo della scuola del 1912 e uno dei 12 professori che nel 31 non prestò fedeltà al regime fascista nel 39 espatriato negli Stati Uniti insieme a lui Doro Levi allievo di della seta per diversi anni alla scuola dal 1921 al 26 futuro direttore no scusate sono andato indietro della seta lo vedete in alto a destra scusate Doro Levi in alto a destra allievo della scuola dal 21 al 26 e poi futuro direttore della scuola dopo la seconda guerra mondiale dal 47 al 77 per 30 anni fuggito negli Stati Uniti e accolto dall'università di Princeton oltre a questi due famosi cervelli in fuga diremmo oggi non migranti economici ma in fuga per ragioni di incolumità personale ci fu Mario Segre allievo della scuola nel 1930 nel 43 era rifugiato all'istituto svedese di Roma un istituto che aveva la concessione dell'extra territorialità e nel 44 uscendo con la famiglia quando le cose sembrava che si mettessero bene qua dietro in una retata fu preso spedito ad Auschwitz e morto pochi giorni dopo insieme alla moglie e al figlio di sei anni oltre a lui ci sono anche due allieve Fanny Finzi che allieva nel 32 non abbiamo informazioni di lei dopo le leggi razziali ma nel 44 45 faceva parte della commissione alleata dei Monuments Men della commissione che lavorava per monumenti arte e archivi fu anche assistente di John Ward Perkins alla scuola britannica di Roma e poi ricercatrice a Dumbarton Hawks negli Stati Uniti dove poi è morta qualche anno fa oltre a lei anche Elena Zevi che fu allieva nel 38 anche di lei non abbiamo informazioni fino al 45 non sappiamo cosa fece dopo la promulgazione delle leggi razziali fino alla fine della guerra comunque sopravvisse perché negli anni successivi è insegnante di lettere nei licei di Roma sia Elena Zevi che Segre esiste una lettera all'istituto germanico di Roma scritta da Jacopi che era un grande nemico di Segre forse delatore per la retata fuori dall'istituto svedese in cui segnala al direttore del germanico che Elena Zevi e Segre che frequentano la biblioteca erano di razza ebraica e quindi che dovevano essere cacciati dall'istituto oggi ovviamente mi è grato di parlare di Alessandro della Seta negli anni della direzione della scuola e raccontare seppur brevemente i suoi anni a Tenisi Alessandro della Seta fu nominato direttore della scuola nel maggio del 1919 aveva 40 anni quindi oggi sarebbe considerato un non giovane forse giovanissimo e rimase in carica per i 20 anni successivi esattamente fino al 1939 quando fu rimosso per le leggi anti-ebraiche per meglio mettere a fuoco la sua figura vorrei dire qualcosa sulla scuola dirò delle cose che molti di voi probabilmente già sapranno ma cercherò di dirle in maniera piuttosto coincisa la scuola di Atene era stata fondata dieci anni prima dell'arrivo di della Seta esattamente il 9 maggio del 1909 cioè 111 anni fa la scuola non era nata dal nulla e aveva un passato remoto e un passato prossimo il passato remoto risale molto indietro nel tempo al 14esimo secolo prima di allora come sapete gli italiani avevano della Grecia una conoscenza molto superficiale libresca pensate solo a Dante dove nomina solo Ulisse e Diomede e 15 intellettuali nel limbo nel castello degli spiriti Magni ma la scoperta della Grecia antica cioè codici monumenti stato e iscrizioni iniziò nel tardo umanesimo per opera di italiani di una famiglia di banchieri fiorentini gli acciaiuoli che avevano fondato sull'acropoli di Atene una signoria in stile italiano in un palazzo costruito come vedete degli antichi propilei che sarà ricopiato dai medici nella costruzione della villa medicia di Poggio a Caiano quindi nel 1400 oltre alle scoperte geografiche che iniziavano fuori dall'Europa si scopriva anche la Grecia antica le prime mappe dell'Egeo di Cristoforo Bondo e il Bonti e i primi disegni di monumenti antichi e di iscrizioni soprattutto di Ciriaco d'Ancona Firenze diventa la nuova Atene una specie di Atene sull'Arno e l'acropoli diventa una Firenze sull'acropoli perché ha la prima cattedra di Greco in Europa e arrivano codici e manoscritti che adesso sono conservati alla biblioteca medicio-laurenziana che è la più grande biblioteca al mondo con manoscritti greci che vengono spediti soprattutto durante la presenza degli acciaioli a Roma viene costruita l'Accademia Neoplatonica finanziata dai medici e dunque la Grecia viene scoperta io con orgoglio nazionale posso dire a opera degli italiani alla fine del 1300 molto prima dei viaggiatori del Grand Tour dei francesi o degli inglesi che cominciano dalla seconda metà del 600 ovviamente nel periodo successivo della storia moderna nei domini veneziani e genovesi della Grecia si documentavano resti antichi e alcune antichità finivano nei palazzi italiani anche sul Canal Grande pensate ai materiali per esempio della collezione Grimani dunque un legame di lunga data fra l'Italia e la Grecia e credo non a caso la Grecia è l'unico paese straniero che ha una scuola archeologica italiana contrariamente ad altre nazioni europee come sapete la Francia la Germania l'Inghilterra ma anche nazioni più piccole come l'Olanda il Belgio e così via la storia più recente della scuola ha una data che è il 1884 quando il patriarca della scuola che è quasi oggetto di culto eroico da parte di molti cioè Federico Halber sbarca a Creta alla ricerca di iscrizioni greche spedito dal suo professore dell'Università di Firenze con pareti nel 1889 aveva creato la missione archeologica italiana a Creta per gli scavi e ricerche nell'isola che è stata la genitrice della scuola di Atene fondata come ho detto il 9 maggio del 1909 per decreto del Red Italia Vittorio Emanuele III come regia scuola archeologica italiana di Atene gli obiettivi della scuola e la sua funzione sociale che sono stati molto sostenuti durante la direzione della seta sono ancora quelli stabiliti dal decreto di fondazione che vi leggo promuovere l'alta cultura archeologica e classica della nazione fornire agli allievi il mezzo di perfezionarsi negli studi e di prendere parte alle esplorazioni dell'Oriente ellenico con viaggi ricerche e scavi quindi prima di tutto come si direbbe adesso ricerca e formazione strettamente connesse fra di loro ora per un ordine spontaneo e anche scelte intenzionali l'archeologia della scuola di Atene si è svolta in diverse aree della Grecia che vedete in queste mappe con dei siti a Creta dove gli italiani hanno lavorato si è svolta in queste aree oltre i confini dello spazio e del tempo della classicità direi quasi che in parte per scelta in parte per caso la scuola archeologica italiana di Atene ha editato i siti classici contrariamente a quanto è accaduto per le altre scuole straniere pensate agli scavi francesi a Delo a Delphi o gli scavi tedeschi a Olimpia al Ceramico o a Samo o agli scavi americani a Corinto o ad Atene e così via la scuola archeologica italiana di Atene ha lavorato in aree marginali della classicità e in siti o preellenici o anellenici o liocni un caso per tutti un sito strettamente connesso con l'Anatolia o i siti minoici di Creta la cui composizione diciamo l'etnogenesi degli abitanti non è ovviamente ancora ben messa a fuoco le ricerche sono ancora quelle promosse da Albert a Creta si svolgono negli stessi siti in continuità con il passato nel caso di Creta palazzi e ville minoiche come Festossa Ghia Triada o la villa di Cagnà nell'area di Gortina oppure siti del cosiddetto medioevo ellenico come Prinias o città classiche romane e bizantine come Gortina i cui scavi furono ripresi da Antonino di Vita dal 1977 in poi durante i 25 anni della sua direzione ma i primi scavi erano stati svolti da Halber poi anche da Colini in misura minore agli inizi della storia della presenza italiana a Creta e soprattutto dopo il rinvenimento della megalia epigrafia di Gortina della grande iscrizione trovata da Halber subito dopo il suo arrivo il primo direttore della scuola che aveva preceduto della seta era Luigi Pernier che era rimasto in carica dal 1909 al 1916 Pernier è lo scopritore del disco di Festos che è comparso prima in una diapositiva di Elena Calandra ed era anche etruscologo visto che siamo a Villa Giulia oltre che scavatore di Creta e poi di Cirene divenne direttore del museo archeologico di Firenze aveva sposato anche la figlia di un etruscologo la figlia di Isidoro Falqui lo scavatore e lo scopritore di Betulonia era stato anche sovrintendente agli scavi nei musei dell'Etruria prima di essere nominato professore di archeologia a Firenze nel 16 Pernier entrò in Italia e la scuola fu occupata dai soldati durante i combattimenti fra il re Costantino e le forze franco-britanniche che appoggiavano Elefterios Venizelos il grande diciamo padre della patria e fra virgolette liberatore della Grecia quello è l'edificio oggi distrutto dove Alessandro della Seta arrivò nel 1919 quando riaprì dopo l'intervallo bellico la scuola stessa nel 32 Alessandro della Seta affittò una casa di fronte alla vecchia sede che è la casa storica chi di voi ha visitato Atene o forse è stato anche penso a forse Adriano la regina prima del 77 è la sede di Leoforo Samalia Peninda Exi che adesso è occupata dalla fondazione Onassis ed era la sede della scuola fino appunto al 1977 poi si è trasferita nella sede attuale di Odos Partenonus nei primi anni della scuola quindi dal 1909 fino al 30 fino alla morte di Federico Halber Halber fu il vero protagonista della scuola il genius loci e anche quello che oggi definiremo il beyond man nel senso che indirizzava le scelte e interveniva molto pesantemente con Pernier e poi anche con della Seta ma in misura minore in alcuni dettagli per esempio sulla scelta degli allievi gli allievi di Atene venivano dalla scuola di specializzazione di Roma come sapete e passavano un anno alla scuola di Atene dopo una selezione da parte del direttore scrive ad un certo punto si lamenta con Pernier perché dice dalla scuola di Roma escono solo eunuchi e signorine e quindi è indispensabile selezionare per Atene giovani e valenti maschi che devono essere addestrati come pionieri della ricerca archeologica in Grecia nell'Oriente e anche nel Dodecanneso che di lì a poco sarà occupato dagli italiani diventando un possedimento italiano in una lettera spedita da Creta Albert aveva mostrato sempre il suo stupore scrive vedendo due signorine archeologhesse che perlustrano l'isola e che addirittura si sono attendate in un luogo remoto erano l'americane Harriet Boyd la scavatrice di Gurnia insieme a nostra collega Jim Pattern anche esse due pioniere dell'archeologia del Mediterraneo nella prima fase le donne sono quasi assenti troviamo solo Emilia Rosmini che è la moglie di Gaetano De Santis che accompagna albere sia a Creta e poi in Cirenaica però non prende parte alle perlustrazioni viene confinata in casa con i servi e aspetta che la sera gli uomini ritornino a casa dopo aver svolto le loro perlustrazioni lo racconta in un libro abbastanza interessante di memoria che si intitola Dalla Canea a Tripoli quindi dal 10 al 16 la scuola accolse solo 11 allievi di cui una donna sola concetta campanile e quasi tutti però gli altri allievi sono destinati a un avvenire di successo nelle università o nel servizio archeologico in Italia e nelle colonie ricordo Maiuri Levi della Vida Biagio Pace Gasparo Oliverio Carlo Anti Guido Libertini e Gian Giacomo Porro morto poi nel 16 nel Carzo le cose cambiano con Alessandro Della Seta perché parlando degli allievi che come vi ho detto sono per così dire l'anima della scuola anche per quanto prevede la legge istitutiva del 1909 nel ventennio della direzione della scuola arriva con Della Seta ci sono 73 allievi 21 donne e 52 uomini quindi il rapporto è quasi di 1 a 3 oggi la scuola la percentuale degli allievi ha una lodevole e non comune par condice di genere cioè sono metà uomini e metà donne del tutto casuale non è dovuto a scelte diciamo intenzionali ma di fatto per adesso gli uomini battono le donne di due unità quindi diciamo esiste su 450 allievi quasi una par condice nel frattempo queste signorine tanto condannate da Halber alcune di queste si erano trasformate anche in amazzoni e davano abbastanza filo da torcere al direttore vi racconto un episodio che riguarda una allieva molto ribelle Maria Luigia Marella nella bibliografia archeologica è nota come Marella Vianello perché aggiunge il nome del marito che faceva parte di un tiaso di allievi nel 34 quando erano tutte donne secondo della seta mancava completamente di senso della disciplina ricevette insomma zero in condotta con una riprovazione scritta ufficiale da parte del del ministero per i contrasti con il direttore la vicenda lasciò una traccia perché nelle lettere di presentazione per gli allievi degli anni successivi si leggeva per esempio queste signorine sono veramente colte brave anche miti e buone molto diverse da altre con il riferimento alla Marella comunque la Marella mostrò il suo carattere e la sua intolleranza alla disciplina qualche anno dopo quando della seta con cui aveva avuto aspri contrasti fu allontanato per le leggi razziali nel 39 prima di arrivare a Roma era una funzionaria credo del Palatino e del Foro Romano si era occupata di scavi anche di materiali boni dei materiali scavati da boni nel 39 faceva la professoressa alle scuole di Rodi e si dimise per protesta contro il provvedimento che colpiva il suo ex direttore quindi mostrando un carattere che aveva già mostrato quando era allieva ad Atene oltre a quando arrivò ad Atene della seta era scapolo si sposò con la signora Maria Teresa durante la sua direzione e faceva una vita di società a giudicare dalle lettere e dagli inviti molto apprezzato dagli ambienti greci come studioso e come uomo di mondo diverse fotografie lo ritraggono mentre riceve o accompagna gruppi di visitatori agli scavi oppure nella residenza della scuola con la moglie che aveva sposato e il coniglio piccinino di cui ha parlato prima Laura Derme che era una specie di mascotte della scuola una specie forse di figlio surrogato perché nell'elettore non si fa altro che parlare di questo coniglio piccinino che la signora della seta tiene in braccio sia della famiglia della seta ma anche della scuola perché anche gli allievi ci sono dei messaggi che si scambiano e sempre questo piccinino che gira per la scuola sempre no? un'ossessione piccinino sì sì no era sempre ora qui sotto forse non so nel giardino ma sopra la signora ci sono anche altre foto sempre con il coniglio con il coniglio in braccio per tradizione gli allievi della scuola seguivano lezioni e seminari del direttore e partecipavano alle ricerche sul terreno come anche accade oggi Alessandro della seta allargò gli indirizzi della scuola verso altri contesti dell'Egeo inizialmente era stata soprattutto Creta come abbiamo visto inizialmente dal 19 al 23 verso la Turchia anche in previsione dopo l'occupazione di Rodi di un'invasione militare italiana della Caria e dunque spesso gli archeologi precedono i militari e della seta da buon nazionalista aveva indirizzato le ricerche della scuola per lustrazioni e scavi pensando anche di scavare ad Efeso prevedendo che gli italiani avrebbero esteso il possedimento orientale dal Rodi e dal Dodecanneso fino alle coste della Turchia si dice che non potesse mettere piede a Creta per dei fatti scabrossi che riguardavano il corteggiamento di una donna questo non è nessuna carta ma è una voce che circola a Creta qualcuno militare l'altro giorno mi diceva di aver trovato anche qualcosa di scritto lui non è mai stato a Creta durante la sua direzione e quindi gli scavi proseguivano continuava Pernier a scavare a Creta e continuava Levi ma era come un territorio off limits quindi prima inizialmente nella Turchia diceva che la Caria era la culla della civiltà mediterranea quindi lì erano le origini questa almeno era la motivazione ideologica negli anni 30 ebbe il permesso di scavare sull'acropoli di Atene quando vi dicevo che l'archeologia della scuola è una archeologia eccentrica perché fra le varie possibilità di monumenti sull'acropoli di Atene scelse una capanna neolitica quindi è una scelta molto eccentrica rispetto alle scelte che le altre scuole archeologiche gli americani dal 30 iniziavano a scavare la Gorà e dunque ebbe il permesso e decise di scavare che indubbiamente è un interessante ritrovamento per la storia dell'acropoli e per la storia di Atene però è una capanna del terzo millennio dunque dove mandò a scavare Dolorevi e lui seguiva l'acropoli e la casa della missione sono a due passi seguiva gli scavi quasi tutti i giorni nel 26 iniziò le ricerche all'Emno nel sito di Efestia Efestia è un sito di cultura anatolica fino al V secolo dal V secolo viene occupata ad Atene quindi è una specie di attica oltremare ma né gli anatolici né i greci interessavano a della seta interessavano gli etruschi per il rinvenimento dell'iscrizione di Caminia alla fine dell'Ottocento e quindi con l'intento di trovare le tracce del passaggio degli etruschi dall'Anatolia all'Etruria siccome gli scavi non furono molto fruttuosi vennero trovati dei resti di età classica ma soprattutto dei resti di epoca precedente di epoca tirrenica come si dice si spostò gli scavi nel 1930 a Poliochni un sito che fu scoperto da Caputo durante le ricognizioni dell'isola e adesso Poliochni come sapete è considerata la prima città europea addirittura forse con un buleuterio ma insomma molto discusso è una città fondata nell'età del bronzo da una popolazione anatolica o mista ma l'interesse di Della Seta era perché la città credeva o voleva credere che la città fosse abitata da Etruschi poi gli scavi e le pubblicazioni soprattutto di Bernabò Brea pubblicate dopo la guerra hanno mostrato diciamo quella che è la reale le reali caratteristiche di Poliochni inoltre Della Seta un po' in sordina lavorava molto per il Dodecanneso occupato dagli italiani cioè il Dodecanneso e la scuola sono due vasi comunicanti in cui gli allievi della scuola operano dopo nel Dodecanneso a cominciare da Maiuri ma poi Jacopi Morricone Laurenzi e tanti altri e per lo meno per tutto il governatorato di Mario Lago fino all'arrivo di De Vecchi Della Seta indirizza restauri scelte scavi e quella che oggi si chiamerebbe valorizzazione di rodi con i restauri soprattutto della fase della fase della fase cavalleresca con numerosissimi contatti e numerose lettere dunque la scuola di Atene ha le finalità che vi ho detto ma con Della Seta in questo ventennio diventa quella che oggi si chiamerebbe una scuola del patrimonio antelitteram prima che fosse inventata anche l'istituzione perché se guardiamo gli elenchi degli allievi della scuola durante il ventennio di Della Seta e poi ovviamente anche dopo moltissimi diventeranno funzionari del ministero italiano del servizio archeologico o comunque docenti accademici all'università questo fino a epoca recente pensate che sei soprintendenti di Pompei da Maiuri a Osanna sono stati allievi della scuola di Atene dunque ha avuto una funzione sociale di scuola del patrimonio come si dice adesso senza etichetta e senza diciamo che forse il ministero neanche lo sapesse ma nei fatti ha svolto questo ruolo ora il nome di Della Seta è legato soprattutto a un libro che ricordava prima Elena Calandra che per quanto io sappia non ha avuto imitazioni ed è rimasto insuperato che è il nudo nell'arte primo volume arte antica pubblicato nel 1930 cioè a metà del suo mandato atenese Della Seta doveva molto all'oevi come ha ricordato Elena Calandra ma anche al padre perché era figlio di un medico e sin da piccolo era rimasto colpito dalle tavole anatomiche che aveva osservato acquisendo molta domestichezza con la nomenclatura specialistica dell'anatomia e proprio al padre dedicherà il volume dove dice alla cara memoria di mio padre egli il corpo dell'uomo con umana e pietà scrutò nel male assiste nel dolore il progetto come sapete è molto ambizioso cioè ripercorrere la storia universale dell'arte attraverso la rappresentazione del corpo umano il libro è basato su un metodo descrittivo di dettaglio dell'anatomia ci sono delle parole molto insolite per un volume di storia dell'arte come sternocleidomastoidei processo stilodeo del cubito arcata epigastrica e simili che sono i descrittori molto insoliti diciamo per un volume appunto di storia dell'arte dove si trovano più modellato delicato pathos acceso e così via quindi ha un'impronta il libro diciamo fortemente positivistica e comunque il merito maggiore è quello di abituare l'occhio a una lettura minuziosa dell'opera d'arte attraverso anche l'esercizio di riconoscimento di ogni arto muscolo o vena lo ricorda Beccatti altro allievo della scuola e allievo anche della seta in un suo ricordo degli anni di Atene sull'annuario è l'annuario del 46-48 dopo la sua morte Beccatti dice della seta oltre che nei suoi scritti vive nel ricordo di discepoli che le udirono dinanzi alle opere d'arte dei vari musei della Grecia in quelle esercitazioni in quelle lezioni pratiche dove si rivelavano le doti più essenziali della sua personalità l'opera d'arte era sottoposta dal suo vigile occhio a un'analisi fine penetrante e sorvegliatissima di tutti gli elementi concreti del linguaggio formale ritmo nudo panneggio composizione scevrandone ogni dettaglio intendendone ogni aspetto egli rimaneva sempre lontano da ogni esteriore retorica da ogni commento estetizzante e superficiale nel 38 della seta riceve la comunicazione dell'allontanamento sebbene come ricordava prima Laura Derme fosse considerato ebreo discriminato cioè inserito in una categoria privilegiata se così si può dire a cui veniva riconosciuta una condizione giuridica particolare per effetto di particolari benemerenze la sua reazione lo abbiamo prima anche sentito dalle lettere fu molto dolente ma molto composta accetta accetta il destino chiede solo in una lettera una proroga non come direttore ma per poter portare a termine gli scavi di Poliocni che si sarebbero svolti nella primavera del del 39 come abbiamo diceva prima Elena Bottai nominò come suo successore Guido Libertini che era stato anche allievo della scuola che arrivò ad Atene a metà del 39 per la rinuncia di Ranuccio Bianchi Bandinelli che era stato indicato come prima scelta alla scuola quindi per Alessandro della Seta si aprì certamente il periodo più buio e sugli ultimi giorni a Casteggio abbiamo una testimonianza diretta di Alberto Arbasino dello scrittore di Boghera che nel 44 era adolescente aveva 14 anni ed era sfollato con la famiglia nelle campagne di Boghera e così Arbasino racconta in un'intervista di pochi anni fa del 2012 dice in campagna vicino a noi era nascosto il professor della Seta non solo ebreo come dice il nome ma un personaggio molto famoso ai suoi tempi perché aveva diretto la scuola archeologica italiana di Atene Alessandro della Seta è oggi anche nella Treccani siccome aveva sposato una sorella della signora Marina la sorella di Maria Teresa che era una signora proprietaria di Terreni si era rifugiato lì ma era scappato con gli abiti che aveva addosso ed erano abiti elegantissimi da città con palto blu come usavano ogni tanto usciva verso sera per fare una passeggiata ma non aveva né le scarpe né gli indumenti adatti per le vigne fangose dove eravamo sfollati lui poi morì prima che finisse la guerra morì lì della Seta aveva 65 anni ed era come diceva Elena il 20 settembre del 44 grazie grazie bellissimo queste entrambe le relazioni il ricordo anche di Laura chiedo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa chiedere qualcosa o aggiungere qualcosa qualche ricordo no vabbè allora a questo punto ci possiamo congedare ringrazio tutti e a chi appunto lo ricordo a chi è presente poi lo abbiamo anche comunicato la visita appunto che ci sarà domani alle 11 con Antonietta Simonelli partendo da qui sede diciamo Sala della Fortuna dove era esposta la collezione Barberini per trasferirsi poi a Villa Poniatoschi dove appunto attualmente la collezione è esposta e lì a proposito ecco sempre per giusto chiudere il profilo archeologico anche nella pubblicazione stessa prima della collezione Barberini poi riversata nella monumentale guida ci sono delle considerazioni sono degli approcci già molto moderni appunto in cui proprio a proposito della collezione Barberini ricorda con una sorta di disappunto che appunto tutti i materiali pregiatissimi che sono stati raccolti con scavi non proprio regolari e scientifici e certamente con scarsissima attenzione ai materiali ceramici che soli sono quelli che poi permettono di datare il resto del materiale altra considerazione diciamo nella guida che è veramente esemplare oltre che monumentale tenendo conto che si tratta della diciamo almeno la metà se non di più dei materiali attualmente esposti è una guida molto corposa è proprio la solidità dell'impianto molto moderno per quello che vediamo diciamo soprattutto per l'epoca però esemplare in assoluto con l'inquadramento generale dei contesti la descrizione dei riti e delle caratteristiche fondamentali delle collezioni e anche con quell'attenzione alla lettura per cui lui segnala proprio all'inizio della guida che per chi avesse poco tempo da dedicare alla visita delle collezioni potrà limitarsi a leggere le note introduttive generali e poi le descrizioni delle vetrine o dei singoli oggetti riquadrati da un rettangolo che è quello che noi adesso si mette un segnale una cosa cose da non perdere cioè con gli strumenti però è un'attenzione effettivamente molto molto particolare quindi grazie a tutti voi e ci rivediamo presto le prossime cose saranno probabilmente come museo di nuovo autonomo grazie a tutti grazie a tutti